Dopo un minuto e mezzo che l'ho inquadrato, gli sfero due colpi micidiali e lo metto subito cappò. Aveva la soffa, subito, si è visto subito, la soffa del campione, del guerriero, l'uomo che non indietreggia mai. Il piano non è uno di quei bugi che si vede su pink e pink e basta, ma è uno che lavora molto di testa, ti aiuta proprio a concepire una cosa più simile proprio alla scherma. Sulla guardia, sulla guardia, dai! Cugidata, intelligenza, tecnica e scherma è la nobile arte. Io quando combatti Emiliano non lo vedo, perché io ho tanta paura. Un giorno, non so, un sardo dice questo, rassumire, mi cugino non ne voglio venire. Gli ha detto io, guarda Emiliano, che là sopra ho il tuo cugino, il tuo cugino, quello ti dà qualche sganassone fatta bene e ti manda per terra col culo per terra. Il pugilato in Italia è molto difficile, abbiamo le televisioni che hanno sposato il calcio e per gli altri sport minori c'è ben poco. Non puoi mantenere una famiglia o te stesso solo facendo il pugilato, o solo chi è innamorato veramente di questo sport lo fa per la passione. Emiliano Marsili è il nuovo campione del mondo, difesi leggeri, IPO. Io un giorno sarò un grande campione. Porto un altro nome di Città Vecchia, del porto dove lavoro e dell'Italia. Sparazzi, what is your profession? All right, welcome everyone to another episode of the Brooklyn Boxing Podcast. I have two very special guests today from Italy. Christian Churchi, head of OPI Promotions and Management for all boxers in Italy. And, of course, the main star here, Tizzo, from the documentary, Emiliano Marsili, great undefeated boxer from Italy. So thank you both for joining. Thank you too, good morning all. Appreciate it. So I wanted to talk with both of you today, of course. You know, I hope all is well with you. Obviously, Italy is battling against this virus as well as the rest of the world. So first, I want to, you know, hope all is well on both of your end and hope everyone is staying safe. Thanks, Cato. The family are good. It's a difficult period for everyone, but we are all healthy. That is the most important thing at the moment. And I hope for your side, it's the same. I appreciate it. So, you know, moving away from the virus, you know, let's talk some boxing. Yeah. Fun today and get our mind off of that. So, Christian, I'd love for you to talk a little bit about the history of Italian boxing. There's so many great Italian-American boxers that my listeners and viewers are familiar with. But I'd love for you to talk a little bit about the history of Italian boxers and some of the great stars that we may not know about. And I'm sure Tizzo could speak on it as well. Yeah, of course. There are a lot of Italian-Americans like Rocky Marziano, Rocky Graziano, Jack Lamotta, Vinny Pazienza, Ray Boom Boom Mancini, and many others. Yes, I'm sure I'm forgetting someone, but there are a lot of Italian-American boxers. Like the history of Italian boxing is from the time of Duglio Loy, Hall of Fame, and Nino Benvenuti, another Hall of Fame, who won the title in the United States. And many, many others. There has always been a culture of boxing in Italy. In the last, let's say, 20 years, it disappeared. But Italy always had a very good boxer who showed their reward around the world. About the actual situation, we are in a phase of rebuilding. Thanks to the agreement we made with Matchroom Boxing and DAZN Italy. And from the end of 2018, we are doing shows with DAZN. And that was Italy need a lot in this particular time. Yeah, I'm sure that partnership, you know, we'll touch on that more as we move forward in the podcast. It's going to be really great for Italian boxing. But I'd love for Kizzo to touch on any fighters that he grew up watching, Italian fighters specifically, that really inspired him. Dice, con quali pugili sei cresciuto, che ti sei ispirato nella tua carriera, quando hai iniziato a fare la box? Pugili italiani o pugili americani? Ma i pugili che ti hanno ispirato particolarmente. All'inizio, quando ho iniziato la mia carriera, il pugile che ammiravo più di tutti, perché a livello americano non è che conoscevo tanti pugili, però a livello italiano era Giovanni Paresi. Per me Paresi era uno dei grandi idoli del pugilato italiano, che ammiravo tantissimo, velocità, tecnica, potenza. Giovanni era unico. You see, growing up, an Italia fighter who admired was the late Giovanni Paresi, who was the last great world champion in Italy. You remember Giovanni Paresi fought Chavez? He was a two-time world champion of WBO lightweight world champion, WBO super lightweight world champion. He had, you see, he had a lot of skills who admired him, like speed, technique, power, everything. And for him, growing up in boxing was his idol. And I know, as you mentioned, his technique was a big skill set of his. He was a technician in the ring, and I know Tizzo prides himself a lot on his fighting IQ and his ability in the ring to implement that against his opponents, correct? Dice che anche tu, visto che di Parisi hai detto che ammiravi la velocità, la tecnica e la potenza, dice che anche tu sei un pugile tecnico con una intelligenza pugilistica che usa sempre nel ring, corretto? Certo, apposta io ho ammirato Parisi, perché diciamo che avevo le sue caratteristiche e io lo adoravo Parisi. Parisi per me era il numero uno, il top dei top. Come in America, per me il numero uno è Floyd Mugueta, la sua intelligenza, la sua velocità, la sua tecnica, la sua precisione è unica. Yes, he admire Parisi for his technics is what he tried to adapt to his boxing and in United States he admire Floyd Mugueta even for his IQ in the ring. And I'd imagine Lomachenko as well, right? In the lightweight division. E dice che pensi che anche ti piaccia Lomachenko, un altro? Sì, sì, giustissimo. Lomachenko pure è un altro fuori classe di quelli stupendi da vedere sul ring che balla, porta un sacco di colpi, veloci, spostamenti millimetrici, unico. Yes, another one is Lomachenko, top quality, fantastic, fantastic fighter. Sarebbe un sogno mio combattere con lui, guarda. Sarebbe proprio il massimo che potrei raggiungere. Con lui ci andrai pure subito. Sarebbe un sogno di combattere lomachenko. Sarebbe un sogno di combattere lomachenko. I think, to be honest, they are looking to, like you say, in America, the biggest fish to fry. Sarebbe un sogno di combattere lomachenko. 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 Un sogno di part 자�ana da picare. V Pilato era una sma si c'era di più isang красi. Bisogne la mostra quarte cisgeno di or stip 됩니다. Un punto costava di più, più fino a livello della zona. Milano 따라vano per Ughfire. Palazzo era il ragone della canaria da Milano. that Vinnie Paz, I believe the guy that you represented, fought in that arena as well, right? It's a big known arena. We didn't represent Vinnie Paz. He was with Main Events, but he fought one time in Italy. As a collaboration between Main Events, OPI 82. Okay, okay. So, and, you know, with OPI, I know it's a family business. Your father started the business. I'd be curious to know a little bit about how that started. Was your father a fighter himself, or was he interested in boxing from a young age? He was. Boxing was always his passion, and his brother, his brother was a professional boxer, and he has been a European flyweight champion. And at the time, his manager was Umberto Branchini, who was inducted in the Hall of Fame in Canastota. And my father started working with him, taking care of his brother, working in OPI 82, with also the son of Umberto, Giovanni Branchini. They worked together in OPI 82, and after he renamed the company in OPI 2000, and now OPI since 82. It's about, it's more than 40 years he's in the business. And me and my brother, we follow his steps. And everything starts with the passion, because first of all, we are boxing fans. We like boxing. We have been to many big shows. And if you have, I think it's important to have a passion when you do any kind of job. And what you bring me in this, in this part is for this, for the passion of boxing. Yeah, that's great. That's great to hear. And it's really interesting to hear about other promotions and groups worldwide. And I know your family, your family business is doing very well, and you have a lot of fighters under your brand right now, I believe. You said 30 or so guys that you manage to promote. Yes, like I told before, boxing lately was not doing great. So having the support, it was doing very well in the 80s, in the 90s, but in the last 10 years, he had a decrease. And having the opportunity now to work with a big promoter like Matchroom and having the support of the zone was game-changing in Italy because we are rebuilding and the numbers are growing. And what's the impact of that partnership with the zone in terms of the pay for the fighters, the exposure, the fan experience? I know that must be such a vast improvement and something fans have got to be excited about. More, it's not more about the money, but it's more about now having a plan. What it means? A plan you can guarantee a fighter a certain date. And with certain dates, he can have a support. He can make a decent money in base of the titles he's fighting for. Because if he can do two, three titles, even if they are not major titles, he can have an income to do holy boxing. But of course, for the very young boxer, you cannot leave holy with boxing. But this is like everywhere. At least you are not coming from the Olympic with a gold medal or whatever. But it's like every fighter at the very beginning, they cannot only leave with boxing. And you mentioned, you know, having that plan for Italian boxing in place now. I'd be curious to hear about your vision of where will boxing be five years from now in Italy? Will it have the popularity that the UK possesses? Or where do you see boxing really going in Italy with this new partnership? I'd say the UK is not a country you can look at it. Because I think the UK is unique. I think the most knowledgeable fans are in the UK. They know boxing. They know everything. They know, they have passion, but they have also knowledgeable about boxing. But I will say, I will see boxing in two, three years. Of course, for sure, better than it was before. And with more numbers. Yeah. More people, more people going to the arena. And more credibility in everything. Well, that's great to hear. Because as a fight fan myself, it's awesome to see the sport grow and get that boost in other areas of the world. Because it's just going to produce more great fights and hopefully more stars in the sport. So that's awesome. Yeah. For this, we are grateful with DAZN for the work they are doing worldwide. I know they are still a work in progress, but they're doing a great favor to all boxing world because their support is amazing at the moment. Yeah. Eddie Hearn and Matt Ram, DAZN, they're all doing a great job. I know you mentioned you've had a relationship with Eddie for a long time in the boxing world, and your fathers knew each other as well starting there. It's great to see those two powers come together and really get Italian boxing that boost that it's needing. So that's awesome, man. I'm excited about that. Yeah, absolutely. Yeah, my father and his father know way long before us. And we work now from the last 10 years together. We have a good working relationship. And I think it's for this when I propose him a project for Italy, he's supported with both hands. Tremendous, tremendous. Well, moving on to Tizzo here and his story. I watched the documentary, and it was really tremendous. I got to get a little sense of his journey through boxing and his time on the docks. So I'd love to have him talk a little bit about his work ethic and really what drove him to put in those hours in the gym after working long days on the docks and envisioning that success and those belts that he eventually achieved. This is what you do if you believe in what you do. You do the sport, you do the fuggishwilhado. I do the fuggishwilhado because I love it, because I feel it. For me, the fuggishwilhado is a unique sport. I don't know if I do the fuggishwilhado because I have an interest for me, I don't know, to create a future for tomorrow. Io lo faccio perché amo lo sport, amo il pugilato e faccio i sacrifici impegnandomi sia sul lavoro e sia nello sport. Invece di andare nel tempo libero di uscire alla sera o di andare in giro, andare in discoteca, fai dei sacrifici e bambini, sport, lavoro, rimani a casa, fai la vita sana e arrivi nei tuoi obiettivi che ti sei posto. Sì, ha fatto questo e ha successo in boxe solo perché, prima di tutto, piaceva il boxe, perché senza il boxe è impossibile, perché ha fatto molti sacrifici in boxe, con il suo lavoro, non andare a partire, con il partire, perché ha sempre concentrato in boxe, il suo lavoro e la sua famiglia. E per questo, il suo lavoro è arrivato a un certo punto in cui è arrivato a un certo punto in cui è arrivato, ma più di tutto, è il suo amore di boxe. E dice, quando è iniziato questo amore per la boxe? Come è iniziato? Come ti è venuto? A me mi ha portato in palestra quando avevo 16 anni un mio amico, io ho iniziato subito il torneo Primi Pugni, io vincendo subito regionale, interregionale e campione d'Italia. All'inizio era un gioco, finché ho fatto il direttante è stato sempre in gioco. Poi, quando è venuto tuo zio, che è venuto qui a Civitavecchia, io ancora ero direttante prima serie, tanti anni fermo, giochi chiavo, mi ha detto perché non ci proviamo a passare professionisti, Miliano ti dà una mano. Abbiamo fatto gli ultimi incontri che mi servivano per punteggio, per passare professionista, la prima serie a professionista. Abbiamo fatto questa serie, diciamo, questa sfida tra virgolette contro il zio e siamo riusciti a farmi passare professionista. Il zio mi ha fatto passare professionista e da lì piano piano, allenandomi con i grandi campioni, con Casamonica, con Branco, con Stefano Zoffe, e stando dietro a loro, con gli occhi rubando i loro allenamenti, come facevano il sacco, quando si allenavano e facevano le spadiche, facendo le spadiche con loro, mano a mano ho maturato, sono cresciuto e mano a mano credevo sempre in questo sport. Fino a che poi sono arrivati i primi obiettivi, il titolo italiano, il titolo mediterraneo, piano piano siamo cresciuti, siamo andati avanti. è diventato, diciamo, un lavoro, un lavoro, un secondo lavoro, e associavo sport al lavoro insieme. è arrivato al 16 anni, quando ero 16 anni, quando ero 16 anni, perché uno di i miei amici bringe il boxe in giro, e quando ero iniziato, aveva un amaturo fight, ma era più un gioco, non era più un gioco, non era più un gioco, ma era più un gioco, ma era più un gioco, anche se non giocava in giro, come tutti gli dicono, ma era un amaturo fight, e cosa succede next? OPI, il nostro compagno, era un training camp, con un professionista, e il mio amico, il former professionista, era un trainer, e il cominciato a entrare a Emiliano, e il suo amici è più pro, aveva la prima volta, aveva un po' di potenza in giro in Italia, aveva un酷 per lo scopo, aveva un lancio professionista, con il mio amico come un trainer, e c'era gli amici, e c'era il professione, i Branco Bras, Casamonica, Stefano Tzov, All season at Pro, world champion, European champion. And he start, step by step, he was improving. He won the Italian title and after that he dedicati in boxing as his second job. So was there a moment, I know you said when he won the Italian title, but before that, was there a moment for him where it kind of clicked in his head like, you know, this is really something that I can run with and pursue as a career and something that I can excel at and be the best. Quando ti è scattato nella mente, nella tua carriera da professionista, quando è stato il momento che hai pensato, io veramente posso fare, posso raggiungere dei grossi risultati nella box? Guarda, quello non mi è mai scattato, perché io mi accontentavo come pugile mediocre, diciamo, perché non sono stato mai uno che si è vantato o cose varie. Io mi accontentavo di arrivare al titolo italiano e di vincere il titolo italiano. Per me era un grande successo, era un trionfo. Il mio obiettivo era arrivare al titolo italiano. E mano a mano che andavo avanti, sono riuscito a arrivare al titolo italiano e a vincere questo titolo italiano. Poi crescendo, impegnandomi sempre di più, allenandomi sempre di più, siamo arrivati a fare altri titoli. e l'occasione di Liverpool che mi ha dato, lì mi ha dato una grande scossa, una grande, diciamo, trasformazione della mia carriera. È stato Liverpool con il mondiale di Harry Matthews a Liverpool. Lì ho iniziato a crederci veramente e impegnarmi ancora di più nel pugilato e diventare un lavoro, diventare qualcuno nel pugilato. Sì, dice che, dice che, dice che, dice che non aveva una reale clicca. Perché, al principio, il suo obiettivo era solo di arrivare al titolo italiano. Ma quando aveva l'opportunità di farlo in Liverpool per l'IPO titolo like Stury Matthews, that win gave him finally the perception of him to be a very good fighter. The confidence. Yeah. Gave him the confidence. The Liverpool fight was the team who finally gave him confidence And of course I've seen the fight with Derry Matthews and it was an absolute war, you guys were just battling in there and you really showed your heart so talk about the emotions of that fight and then also what was going on outside of that fight because I know there was pressure back home from the organizations in Italy saying that they weren't going to let you box anymore because an IBO title was not recognized at the time Sì, allora ha detto che ha visto il match che è stato assolutamente una guerra che è stato un match intenso e dice di raccontarci di quel match ma anche di quello che è successo fuori dal ring perché come ben sappiamo tutta la situazione che all'improvviso poi l'IBO non è stato riconosciuto Sì, allora lì è stata un'emozione unica perché il giorno il giorno stesso del peso mi chiamava la federazione bugilistica italiana dove mi diceva che io non dovevo combattere non dovevo montare i sull'ing e se non avevo squadrificato a vita io mi sono trovato diciamo con le spalle al muro e dovevo lì spare il peso e non conoscendo la lingua e come potevo dare forfeit e non fare l'incontro con lo loro beniamino di casa era una cosa impossibile io alla federazione ho detto fai finta di non avermi sentito non mi hai chiamato mi prendo le mie responsabilità faccio il match e poi pagherò le conseguenze sì, è stato un sentito un'emozione perché è successo il giorno del weekend l'Italia ha chiamato e ha detto se si combattono per il titolo IBO sei banato per la vita come pro in Italia ma all'interno è stato come come in in the UK the the show is done the fighters are there I don't know the language I can't explain everybody I can I cannot fight it was like crazy situation he told the person of Italian federation who called him and said listen we never talk with each other and I do the fight and when I come back I will I will take my responsibility but I remember that time because I was involved in that situation as well because I was his manager I was forced to to give up the contract and but it was because there was a stupid war between at the time between the vice president of IBO for Italy and the Italian federation because right now it's very funny IBO is recognized by the Italian federation so it came down to a lot of boxing politics yes exactly but this only damage everybody damage the joy of Emiliano celebrating as world champion when he came back in Italy but you know but at the same time I think it was from a point of view also his best performance oh yeah I mean winning abroad it was not easy right I mean watching watching the fight it was it was tremendous heart from Tizzo but also not only did he have to overcome Harry Matthews but also the fans in Liverpool I know I know they're crazy over there the soccer fan football fans I should say and they were throwing things at you and the crowd was against you so he had to overcome that as well e poi dice che è stata una anche grandissima vittoria perché sa come sono passionali tifosi là in Inghilterra che fanno casino lanciano cose è certo siamo entrati con sfutaggi lanci le monetine e ci strappavano la bandiera perché con me mi ero portato una quarantina di portuali i miei colleghi erano venuti a sostenermi ci hanno trattato malissimo però siamo usciti con la pausa poi he say the receipt was very bad perché quando erano erano 40 persone venivano di Sivita Vecchia il suo centro e quando erano 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 spittano throwing coins trying to 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 take the italian flag but i say at the end they go out with the cheers it seemed like by the end of the fight everyone everyone watching you know they were forced to give their respect because it was such a great fight yeah alla fine però ti hanno mostrato il rispetto del grande match che è stato e che è fatto beh ma sono veri sportivi gli inglesi saranno diciamo confusionali sono casinari tutto quanto perché fa parte del loro carattere dei tifosi che sono però anche quando ci sono i meriti vedono anche i meriti chi merita automaticamente dopo all'ultimo fanno l'applauso anche chi ha meritato di vincere yeah they say the UK fans are crazy they are loud they are wild but at the same time they show sportmanship if you deserve and for this at the end they cheer his performance they applaud this performance yeah of course that was a tremendous fight and a really mean meaningful one for you in your career but another fight that was talked about in the documentary and one that I was looking at in your career was against Luca Giacone and I know that one seemed like for you a big fight in your career it was a young guy I believe undefeated at the time for the European belt and it seemed like a fight in your career where you wanted to prove to yourself that you are the top dog un altro match dice che poi spiegherò anche la mia parte è quello con Giacone dice che allora io dove hai dimostrato e dove per te era anche personale questo match diciamo allora allora io ho fatto quel titolo a Liverpool che già avevo 35 anni non ero un ragazzino perciò la mia carriera è uscita a 33 anni dei primi titoli italiani a 33 anni che ho difeso per tre volte il titolo italiano e poi ho preso questa occasione e sono stato un anno fermo dopo di Liverpool e dopo un anno fermo ho dovuto lasciare questo titolo mondiale lascio questo titolo mondiale mi fanno sfidante ufficiale al titolo europeo e il titolo europeo era pagante facciamo il match di Giaconne Giaconne è un ragazzo fortissimo bravo e 21 match 19 K e 2 un contest 1 ai punti cosa del genere mi pare non mi ricordo bene automaticamente in carta era superiore a me era diciamo il nastro nascente del pugilato dell'iano un ragazzo che puntavano tantissimo e io una volta ho deciso di andare in Sardegna di andare a fare i guanti di provare questo Luca Giaconne ci sono andato proprio apposta perché volevo vedere con i miei occhi questo Luca Giaconne che potenzialità aveva sono andato a fare i guanti appena sono arrivato in Sardegna il primo giorno subito ho fatto i guanti non è che ho aspettato il giorno dopo ero un po' stanchino però ho fatto 6 riprese di guanti a tamburo battente testa a testa con il Giaconne perché dovevo sentire questo Giaconne quanto faceva male quanta botta e faceva male per carità aveva dei colpi micidiali però ho visto che aveva anche delle picche che non gli faceva prendere i colpi non ci stava a prendere i colpi era uno che non voleva i colpi ho detto no c'è un lato debole su questo ragazzo la seconda volta il giorno dopo ho fatto i guanti però lui si era levato un po' di vente mi ha subito spaccato l'occhio e è finito così ho finito così i guanti in Sardegna sono ripartiti sono andato a città e mi ha avuto questa cosa questa è la seconda volta si la seconda volta si la seconda volta mi sono spaccato subito al primo round lui si era levato le bende prima si era buttito bene i guanti invece la seconda volta perché ha visto che ci sono state si è riprese a testa a testa dure e la gente è rimasta tutta vera migliata e allora si è levato e mi sono subito spaccato nei primi 30 secondi non è che c'è stato diciamo però ho provato su Luca Giacondo ho detto è fortissimo ragazzo forte bravo ha tutte le qualità però si posso farmi un match posso farci il match e ho deciso di fare questo match quando è venuto l'occasione me l'hanno offerto ho detto si poi ho trovato l'occasione di portarlo a Cività Vecchia anche lì è stato un bagno di sangue un massacro perché dovevamo trovare i soldi ha fatto un'asta fuori dal normale il manager automaticamente un bagno di sangue anche lì è stato però ho avuto la mia soddisfazione e ripeto Luca Giacondo è un grandissimo campione mi lavo tanto di cappello Giacondo Giaccona era il top prospect, magari il migliore prospecto in Italia era 21-0. Giaccona era parlato di Giaccona, tutti avevano parlato delle cose in Italia, bla bla bla. Giaccona è venuto in una campanella prima la città, prima la città era annuncata, prima che i bambini erano co-challengers. Giaccona era un'altra parte, prima che veniva a un'altra campagna in Sardegna, e avevo sempre un'uncolare a un'altra parte, ma a quel tempo era il Giaccona. Giaccona era un'altra parte, e aveva spariato in un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, Giaccona era un'altra parte, ma a quel tempo è notato che la città era un'altra parte. Giaccona era un'altra parte, e non piaceva il ponte. Giaccona era un'altra parte, e poi Giaccona era un'altra parte, e poi era un'altra parte, e poi veniva. Poi, la città era annuncata, e poi hanno pagato la città, perché i suoi manager, a quel tempo, hanno fatto una grande pagina. e poi avevano il ponte, perché avevano il ponte in Sivitavec in casa, ma poi aveva venuto con una vittoria, che era personalmente, perché era un'altra parte, e tutti gli diceva che Giaccona era venuto. e poi aveva un'altra parte, e poi aveva un'altra parte. E poi, stupendo di rispetto, Giaccona era un'altra parte. e poi avevano un'altra parte. E poi avevano un'altra parte, perché eravamo sempre il manager dell'Emiliano. In la sua carriera, avevamo solo due split in la sua carriera. E' un split quando avevano Giaccona. E' stato il manager di Giaccona, e' stato il promotor di Giaccona. E' stato uno di loro, e' stato pensato che Giaccona era venuto con l'Emiliano, ma è vero che tutti eravamo. Io ho detto che all'epoca, nella nostra carriera, c'è stato sempre con noi. Solo in un paio di volte, c'è stato brevemente con un altro promoter. e una delle volte è stata quando era con Giaccona. E quando tutti pensavano che Giaccona vinceva, compreso me e tutti quanti. E invece hai dimostrato tutto il contrario con quel match. Sì, però io sono stato costretto a cambiare manager. Perché i migliori... No, in Italia. Siete una famiglia, una dei migliori al mondo, di manager, promoter e tutto quanto. automaticamente non esistono altri manager. Sia in Italia, che siete una famiglia, una dei più grandi al mondo, una dei più forti al mondo. Sì, sì. Ma quello era per dire che... È stato così e l'hai dimostrato con i fatti e non con il resto. Però... Sì, ma io ho saltato. È stato un po' personal... una cosa attraversa tra ragazzi. Mi ricordo che il nostro buon punto è stato fatto, dove erano le partite, e quando provo altre persone erano. oh yeah i mean it's a it's a very it's very interesting backstory there i didn't know um that they had sparred each other and um you know there's a lot of stories of that in boxing where these these uh these wars in the gym that the fans don't see and um there's a lot a lot of uh sparring sessions that have big implications for for future fights um guys get an edge on each other in the gym so it's interesting to hear that story of tizzo um getting that mental edge over over um before they actually really fought professionally dice che è stato molto interessante aver saputo questa storia dello sparring perché dice tante volte non si sanno le quello che succede dietro le scene di tante battaglie che avvengono in palestra di tante cose che neanche i tifosi sanno certo ma il fuggile deve 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 farlo in prima persona deve l'esperienza e se c'è un'occasione di provare di attestare un fuggile lo devi fare in prima persona lo sparring va fatto anche se sei un campione chi sei sei non è detto perché se in campione lo sparring che non lo devi fare non devi andare da un altro che tutti senti i campioni devono venire tutti da te non è vero è un'esperienza si si fa si cresce sempre dal più piccolo al più grande si cresce sempre sempre se uno ha voglia di crescere nel fuggilato ha voglia di fare lo sparring va fatto e maturi cresci e c'è nuove sensazioni provi l'avversario provi chi ci ha colpi più forte che ha più velocità che ha più colpo d'occhio dubbi da tutti e provi le sensazioni veri sul tuo corpo e quello e c'è facendo i quanti hai delle sensazioni che gli altri non possono vedere non possono capire li intercetti solo tu che stai lì e sono importante queste cose se sei no the the side of sparring is very important and is very important do not think everybody must come to your gym because you feel like no I'm the A side or whatever but also to go and make experience for for this he went to in Sardinia at the time where Jacon was training to try and because this is is make you grow up the sensation you are inspiring you you don't care but it's very important to say and at that time at that time he didn't know he was going to fight Jacon but this happened but if you later on appointed Jacon as his co-challenger even if it was even if he was fighting the same category of life yeah now it's it's interesting to hear those stories so I appreciate you guys sharing that but I'd love to hear more from Tizzo about you know what what he thinks about this uh this documentary being made about him and his life it must be a really cool feeling to have people really appreciate your story Dice cosa ci vuoi dire anche la tua storia personale perché la gente anche apprezza la tua storia la tua storia personale ma è la mia storia personale sono un pugile umile non mi interessa essere nessuno può essere qualcuno io sono una persona della porta accanto persona normale che va al lavoro che gode della sua famiglia persona tranquilla normale come tutte le altre famiglie che vive di sport di famiglia e la normalità se considera in stanza like a normal so about his life always grow up with the feet on the ground working at and taking care of his family that is but this is life yep he lets you do the promotion forum right yeah but uh no I appreciate that um so with Tizzo you know in this big partnership um with the zone what's next for for your career and and what do you envision um your future in boxing Dice adesso che c'è da zone in italia cosa cosa pensi cosa pensi per te cosa può ancora dalla tua carriera io io sto a fine carriera e si sa non è che non si sa io vorrei fare gli ultimi due incontri però due incontri due incontri dove mi gioco un titolo vero che ho sbagliato ripeto non sono stato bene quando ho avuto l'occasione di fare cozzati clanine a new york mondiale wbc mi pento tantissimo di quella decisione e ritornare indietro sarei già partito spero di di avere un'altra chance di poter fare un mondiale pure per mettere la ciliegina sulla torta veramente e impegnarmi al massimo per conquistarlo perché se io combatto combatto per vincere non combatto per tanto per combattere per fare numero questo è poco ma sicuro spero che con danzon con la famiglia gherki di riuscire a fare questo titolo e chiudere la mia carriera un paio di match he say he has to fight left in his career and you know you wanna only do in these two fights only if there are important titles on the line because if you wanna do these two fights is for for winning or for losing at the same time he regret uh when i didn't take the chance with slatticani for the wbc title but that's the past and i hope now with uh this does on italy opi can give him the opportunity to to fight for another important title yeah i'd be curious to hear about you know obviously the lightweight division right now is so stacked uh with talent like guys like we mentioned like lomachenko devon haney a young a young rising star ryan garcia another young guy um lenares gervonta davis the list really goes on and on there's so many young stars in this packed shark tank of a lightweight division so i'd be curious where tizzo sees himself in that division and maybe some of these guys in the states that he would like a run at he says that now the division of the leggeri is full of talent from lomachenko raya garcia gervonta davis linares and others what do you think? linares is the most dangerous thing in linares today because there is also a fight against the philippini and contra finlandese tatli that's why i think they would like to fight if i think they would like to fight if they need to make news they think one is linares where he thinks he can be right now and he thinks he can't fight for the names you say it things the one is linares where he thinks he can do a good fight yeah Jorge Linares you know is a tremendous fighter and Teofimo Lopez like you said is is a Brooklyn fighter another another great young talent but I'd be curious Linares you know his fight with Lomachenko he knocked Lomachenko down and and found some great success against him how do you see your yourself matching up against Linares or how do you see that fight playing out. Si dice di Teofimo che è un grandissimo pugile Linares che è un grandissimo pugile e che Linares l'ha visto con Lomachenko e l'ha messo anche per terra. Si l'ha messo anche per terra l'abbiamo visto anch'io il match tutto quanto. Cosa pensi di un match tra te Linares? Un match tra me Linares è un bellissimo match un match che farei volentieri con un grandissimo campione e se mi danno questa chance lo farei sicuramente e se dovrei perdere con Linares per me è una grande accetto accetto il match accetto la scoppita ho perso con fuori classe. Gli renderò sempre la vita la vita gli renderò sempre la vita difficile prima del battermi però può succedere. La scoppita si dice che sia un' importante che si dice che si dice che la scoppita vedete come Linares perché va sapere di un grande spazio affino allo che è un grande spazio affino chetono gli rendere tutto questo campione. Ma parecchio che si dice che la scoppita anche per l'arriamento in un granito di Linares si dice che si dice che ci si vede non si dice che si dice che si dice che si chiama Linares è una flexione con un alti un alti fighter. Si dice che lo siano l'assessi che si dice che si dice che ci dice che basta Dice che De La Hoya aveva programmato Linares contro Ryan Garcia allo Staples Center. Dice che magari potresti fare con il vincente. Magari? Ma secondo me Linares Garcia io punterei non tanto perché Linares oramai sta un po' più su un declino. Ryan Garcia sta a crescere, un ragazzo fortissimo, giovane, velocissimo, mi piace tantissimo. Linares è fuori classe, per carità. Io voglio trovare il vincente. E anche se Linares è un ragazzo, in cui penso che il ragazzo di Ryan Garcia può provare in Linares' esperienza. Yeah, I think it's going to be a great matchup and I'm looking forward to the outcome and a potential matchup with Pizzo. I think that could be a great show, especially maybe do it in Italy with the new DAZN partnership. That would be an awesome show. Yeah, it's not DAZN America, I remember. Yeah. But, yeah. Linares' great for Italy, but it's not a million dollar deal like DAZN America. So, also in pop culture boxing news recently, I don't know if you guys have seen the videos of Mike Tyson back training. He says he wants to do a charity match. I kind of wanted to see what you guys thought about that and would you want to see him back in the ring if he made a return? I don't know if you've seen Tyson, the last video of Tyson that he's been doing to 53 years old. Yes, I've seen him with the master who has the paracordia. Yes, yes, yes. And he said, what do you think of Tyson that he wants to do to 53 years old? He said he watched the clip. He said that Tyson was impressive in doing the lead. Yeah, exactly. He said fast and timing was unbelievable. He said nothing wrong for him to do an exhibition match. It would be crazy to see. I know there's a lot of talk about it. It's good for the sport at the end of the day. It's good for people to be talking about boxing. And, you know, it's just more promotion. And that's why I'm so excited to talk with you guys, hear about what you're doing in Italy. Because I know there's so many fighters out there that, you know, that aren't household names, but maybe with the help of the zone and the help of this promotion, some of those guys will rise up and really become global stars. Let's hope. Let's hope. This is the work we are doing now to make the people, the boxers more known to the general audience. because Italy is a football country, soccer. So the other sports, they have more difficult to have visibility. Only if you have a star, you have a visibility. So we are doing a job to have the boxer more known than before. And with the help of the zone and match room, we are on the right path. That's great news. Well, you know, I appreciate both of you guys coming on all the way from Italy. It's really, really cool for me to speak with both of you and hear about, Christian, you know, your job and your company with OPI. And of course, hear more about Tizzo's story. And I urge everyone watching and listening to go check out the doc. It's on Amazon Prime. I believe other networks are carrying it. It's a great story of his life, hard work, and his rise to belts. And the great thing is his story is not over. Like we talked about, there's two fights left on his contract and what he wants to do. So I can't wait to see those matchups. Thank you for the opportunity. Thank you for your time and the visibility on your podcast. I appreciate it. And Tizzo, thanks again for joining me. I can't wait to see your next two fights. I appreciate it. I appreciate it. And I hope to see your next two matches. Thank you. And thank you for the interview, for this beautiful interview, for the opportunity to do this interview. And I hope to see your next two matches. And I hope you also give me the opportunity to do these two matches. They say thank you for the interview. And he's looking forward to do these fights. Awesome. Well, I appreciate it. Everyone go check this out on YouTube, Apple, Spotify, and go follow these guys on all social media. Check it out. Keep your eye out. Big fights on the way. Thanks, guys. Thank you. Thank you for joining. Thank you. Grazie a tutti